Camer, soluzioni per un autentico benessere. Anche se ci si trova in villeggiatura in montagna, dove a farla da padrone sono le passeggiate e le attività sportive, l'estate può essere tempo di piccole scoperte. Una di queste, ad Aprica, è senz'altro il mulino dei Plaz, meglio noto come Mulin di Plaz. Ha cessato in modo definitivo l'attività nel 1977. Dopo anni di semi-abbandono, il progetto di recupero ha previsto la riqualificazione del mulino e dei terreni circostanti e la realizzazione di un parco tematico che consente finalmente di recuperare l'autenticità culturale di montagna e delle orobbie valtellinesi. Un fantastico mulino che è stato recuperato dal comune di Aprica, è stato sovvenzionato anche dalla fondazione Cariplo, è un'opera straordinaria e risveglia quello che è le tradizioni e quello che erano le fatiche di una volta. Spero che la gente venga a vederlo perché è molto bello ed è un'esperienza unica. Costituito da due fabbricati molto simili e realizzati con murature in pietra, il mulin di Piazza si trova nei pressi del torrente Aprica che ne fornisce la forza motrice. L'edificio principale è sicuramente antecedente al 1816, mentre il secondo probabilmente è stato costruito durante il XIV secolo. Con la sua riqualificazione, nell'area adiacente al mulino si è iniziato un percorso di coltivazione di grani antichi valtellinesi, saraceno, orzo e segale, per conservare un presidio di qualità. Non solo, l'allestimento di una piccola esposizione di documenti e strumenti legati alla coltivazione e la possibilità di visitare il mulino stesso permettono di conoscere una realtà storica e culturale dimenticata, ma soprattutto sconosciuta e più. Un occhio di riguardo è naturalmente riservato ai piccoli. Abbiamo organizzato tantissime attività per i bambini, tutti i venerdì pomeriggio, prenotabili online, su sito Aprica online. Per bambini da 6 ai 12 anni facciamo tantissimi laboratori, dalle 3 alle 5 del pomeriggio. Vi invitiamo tutti alla scoperta del mulino e delle attività collaterali che si possono fare in questo bellissimo territorio. Il mulino è visitabile il mercoledì e il venerdì, il pomeriggio. E' prenotabile tramite il sito online di Aprica che così voi estrate, cercate l'area dedicata, potete iscrivervi e venire a visitarlo. Grazie ancora!